Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo qui su Fortnite, ovviamente come potete vedere Per fare un'ulteriore partita Sperando che chissà, magari questa volta finalmente riusciamo a vincere in questa nuova stagione In questo nuovo capitolo Ma prima di tutto andiamo a prendere le ricompense Perché voi questo video lo vedrete domani Quindi io gli farò gli auguri in ritardo Ma intanto mi faccio auguri perché io lo sto registrando in 25 No, in realtà forse non lo vedrete domani ma tra qualche giorno Quindi vi faccio gli auguri in ritardo Mi sono dimenticato di farveli in quelli che avete visto negli scorsi giorni durante Natale Lo so, mi dispiace, scusatemi Quindi auguri in ritardo Beh dai, questo comunque entro il capodanno dovrà uscire Quindi in caso auguri di buon anno Per il resto andiamo ad aprire i regali che ci manca da aprire Vediamo un pochino cosa troviamo qua dentro È piccolino quindi immagino Ok, infatti Ah, tre ne abbiamo trovati addirittura Wow Adesso è tempo di questo Intanto li dobbiamo aprire tutti Quindi va bene Ecco dentro Un po' di bug D'accordo Non lo volevo aprire a quanto pare quel pacco Ok, qua Un nuovo Un nuovo fantastico Come si chiama? Tipo piccone, vabbè, martello In quel caso sembrava tipo un martello Questo cos'è? Oh, bello il deltaplano natalizio Potrei quasi poi utilizzarle un po' le cose natalizie Apriamo questo Che non so, magari una livrea Non so cosa potrebbe starci qua dentro Ah, col pony natalizio I pony, vabbè, anch'io sono scemo I pony, non è un pony Ah, abbiamo Ah, aspetta Non li possiamo aprire tutti però Perché Quello grosso grosso Vorrei aprire quello grosso grosso Io sinceramente Cioè, quello grosso grosso Sembra tanta roba Cos'è? Eh, vedete, è una skin Purtroppo non possiamo quindi più aprire questo Bisogna aspettare domani Va bene, domani apriremo questo piccolino qui Ok Adesso non perdiamo altro tempo Facciamo così per togliere tutti gli indicatori Andiamo a fare subito Una partita Chiaramente non è risa a squadre Ma Zero costruzioni Questa qui classica Vai Ci buttiamo subito in partita Senza perdere tempo Perché Questi video Non devono durare 30 minuti Eh Direi che Tra i 15 e i 20 Come gli scorsi Più o meno Eh Non più di 20 Quindi Già il fatto che Io abbia Apperto un po' di pacchi Inizialmente Potrebbe aiutare In caso la partita andasse male Ma noi puntiamo a vincere Ovviamente Ci si prova Dai Ci si prova Quello è l'importante Spero che voi abbiate passato Delle buone feste Io sì Oggi Ho mangiato Con i parenti Mangiato bene Mangiato tanto Poi ho mangiato anche ieri sera Che per me era la vigilia E mangerò anche domani a pranzo Quindi Diciamo che Mangio tanto In questi tre giorni Vigilia Natale Santo Stefano Eh Voi spero abbiate Vi siate nutriti In compagnia E vi siate divertiti E finalmente un po' di relax Dalla scuola Eh Anche perché non mi hanno dato Molti compiti Tipo Soltanto Non so che a voi Non dovrebbe interessare Sta roba Giusto Giusto per dire due cose Durante il caricamento Un po' di matematica Un po' di italiano E basta Forse due cose di storia Da rileggere Ma basta Per il resto compiti Non ce ne danno molti a noi Quindi Molto easy Molto molto easy Le vacanze Soprattutto ho intenzione Di farmi subito Sti compiti Infatti dopo che avrò registrato Un po' di video Che devo pubblicarvi Nei prossimi giorni Perché io Dal 27 al 30 Sono via Non ho la possibilità Di registrare Proprio perché non ci sono a casa E quindi Registro Scusate Questi video Che voi vedete Nella settimana Dal 26 Al 31 All'1 In realtà Si Più o meno Perché comunque Io registro 5 giochi Quindi più o meno Tutta la settimana Fino a venerdì Sicuramente Se non è anche Per la prossima Dove ci potremmo Tuffare ragazzuoli Allora Sinceramente Non saprei Potremmo andare In questa casetta Qui tranquilla Sperduta Dove non dovrebbe Andarci troppa gente Va Che preferisco Prendermela un po' Tranquilla Come partita Perché qualche giorno Che non gioco Va giusto un paio Però che ho giocato Con un mio amico Qualche giorno fa Infatti sono a livello 22 Per quello Perché abbiamo fatto Un paio di partite assieme Ma comunque Prima erano mesi Che non giocavo No Prima di iniziare A fare di nuovo video Su Fortnite Quindi Direi che va bene E anche il canale Stando bene Cioè abbastanza Dai Vedo che comunque I video che piacciono di più Sono un po' di Fortnite Qualcuno di Spore Un po' di video Un po' di visoli fa Anche Subnautica Ma soprattutto Marvel Sfida dei campioni Che è uno dei primi giochi Con cui ho iniziato il canale E che È tranquillamente Il gioco che si può dire Mi sia andato meglio Sul canale Che chiaramente Insieme un po' a Minecraft Grazie alle live Soprattutto Minecraft Abbastanza bene sul canale Per il resto È indiscusso Indiscutibilmente Marvel Subnautica È il gioco migliore Che non lo piace Un video che ha quasi Un cento Mille views Tipo Quindi E molti altri video Che hanno tante visual Vediamo I scildini Hai scelto una zona Che non mi ricordavo Non ci fosse nulla Ottimo Qui dovrebbe essere Cilemoto Almeno Ma non manco Mi sembra di vedere Dov'è l'idiota Porco Porco Dicci I pigli Per il culo Non mi dire Che riesco Ma è scemo Ma è un bot Dai Ma quanto bot Questo Mi sembra possibile Ma questo è un bot Bot assurdo Sì È bot Per forza Questa persona Perché Non è possibile Sinceramente Cioè Che sia così Così Idiota Guarda O gli laggava peggio Di quanto laghi a me O non saprei Perché qui davvero Sta messo male Questo Cioè L'ho ucciso a picconata Aveva un cazzo di pompa Capite che c'è qualcosa Che non va qua Aia Aia La cosa brutta Che fa un po' di casino Stamotto Io vorrei un po' di silenzio Perché Ho poca roba E qui è facile Trovare gente In mezzo alle palle Soprattutto Perché noi Dobbiamo andare Proprio di là Ragazzi Vediamo un pochino Dove poter andare Su di qua Non è proprio il massimo Non è proprio il massimo È qui però Che mamma mia Che merda Che merda Che merda Questo non so cosa sia Io non lo uso Quindi va bene Voilà Allora 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 Sbagliamo su Una mitraglietta Ho trovato Eh Non è che sia proprio Sto gran che Una mitraglietta Ecco Sinceramente Il pacco Mi interessa di più E Delle frecce Vabbè Un arco Che arco è questo? No L'arco L'arco che Tirambina Non lo voglio Questo neanche Lo scildone Potrebbe essere utile Però Il martello Lo preferisco Sinceramente Quindi Teniamo il martello Ehm Pa 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 Oh questo Guarda Così almeno Assalto tanto Così qui È la È la Madonna Capisco un pochino Però Qui salta tanto Soprattutto Lagga tanto Questa Mitraglietta Sembra più carina Più performante Cioè Guarda Oddio È È È È un problema Stiamo continuando A salire Ci facciamo Tutta la mappa Così Ok Iniziano a togliersi I palloncini Per fortuna Solo che Danno abbastanza Fastidio Alla Visuale Va bene Tanto dovremmo Arrivarci in tempo Comunque No In safe Sì Sì Basta correre Tanto Quanta vita Ha questo Va Avantgura Sicuramente Andate bene Tutto A quel paese L'abbiamo colpito Voilà Facciamo così presto E che lì Mi interesserebbe Ammazzarne Un paio Eh Aia 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 Vaffan Ma porca Puttana Ma dimmi te Che Che merda Ho fatto una partita Schifosa Ragazzi Lo so Faceva schifo Parecchio Mi scuso Ma va bene Dai Ci sta Mica si possono fare Tutte partite buone No Direi che ogni tanto Farne una bruttina Ci sta Poi magari Nel prossimo episodio Che registro Ovviamente adesso Sapete che c'è Prova a fare Una rissa squadra Da portare a vedere Anche in video Per vedere un po' Com'è anche in video Rissa squadra E comunque Per questo video Che è trovato Prodente anche Non troppissimo Vi auguro Una buona giornata Ciao ragazzi